Ben ritrovati, oggi video su un libro NO. Il libro NO in questione è Una lunga estate crudele di Alessia Gazzola. Alessia Gazzola è una scrittrice italiana o meglio, è un medico specialista in medicina legale che ha esordito tre quattro anni fa, no anzi sì sì quattro anni fa era 2011 con il romanzo L'Allieva in cui compare per la prima volta il personaggio di Alice Allievi che sarebbe un po' l'alter ego della scrittrice. Questa Alice è una laureata in medicina che sta tentando di farsi strada nella specializzazione di medico legale. Allora io non ho letto i primi libri, lo dico da subito, manco li leggerò. Mi è capitato questo romanzo che dovrebbe essere l'ultimo in ordine di apparizione ossia Una lunga estate crudele. Ebbene, forse perché avezza a leggere romanzi in cui ci sono come protagoniste donne medico legale. Vedi Kay Scarpetta, il personaggio creato da Patricia Cornwell, o Temperance Brennan, il personaggio creato da Katie Rikes, il gusto per questo genere di romanzo è indirizzato in un certo modo. Qui no, qui abbiamo un gran pasticcio, un pasticcio dove non si capisce se voglia essere un legal thriller, un romanzo harmony. Non mi piace e non mi piace, la storia è sciatta, buttata lì, confusa, raffazzonata, con un finale tirato per i capelli. Il personaggio di Alice è veramente indisponente, almeno io parlo anche come donna. Cioè io non capisco come una che abbia ormai nel romanzo 27 anni sia ancora lì a bamboleggiarsi, sono innamorata di Tizio, però mi piace Caio, però perdo la testa per Sempronio. Un'indecisa, un'irrealizzata, un'irrisolta, una che avrebbe bisogno di farsi vedere da uno bravo, tanto per dirla papale papale. La scrittura anche è ripetitiva, noiosa. Questo avere il vezzo di chiamare tutti per nomi, soprannomi, nomignoli, eccì, eccì, eccò, no. Parliamo poi del personaggio della nonna di Alice, una che ma neanche Gozzano l'avrebbe sopportata, una che non chiama mai la nipote per nome, che la chiama cuore di nonna, un'amore di nonna, tesoro di nonna, e che dupalle sta nonna. Assolutamente no. Si vede che non mi è piaciuto da sto libro, assolutamente. Se poi qualcuno vuole leggersi questo genere di cose, cioè quelle che io definisco libri né carne né pesce, perché vogliono essere illegal thriller e non lo sono, romanzi d'amore e non lo sono. Ironia, ma ironia portami via. E' pazzescamente brutto sto libro, veramente. Neanche per sbaglio ve lo consiglio. Ripeto, ma non perdo neanche un minuto per leggere gli altri. Non mi interessa, cassato dalla mia lista degli scrittori, senza possibilità di riscatto. Basta. Mi sembra di aver esordito in maniera anche troppo irruenta. Torniamo alla dolcezza. A chi gliene potesse fregare qualcosa, la mia mamma è tornata a casa. Sta come può stare una persona della sua età, per il resto tiriamo a campare. Non mi sono potuta esibire in uno splendido make-up, perché entra, esce 40 gradi, aria condizionata. Poi viene giù l'iradidio di pioggia e precipitano le temperature. Per farvela breve ho preso un colpo d'aria a un occhio, che non so se si vede. Levemente tu mi hai fatto. Ogni volta che sbatto la palpebra ho l'effetto di pugno di Mike Tyson arrivato diretto. Insomma, è una cosa micidiale. Sono due giorni, che pena. Fa niente. Quando tornerò lillera lillera, vi stupirò che mi ha effetti speciali. Prossimamente anche un video sui prodotti finiti, visto e considerato che ne ho finiti alcuni e che ho bisogno di liberare l'angolo del sacchetto delle nequizi. Con questo vi saluto, un mio bacio, un arrivederci presto. Vogliatemi bene come io ne voglio voi. Basta. Ho iniziato a leggere altri libri. Mille volte meglio. Cioè, di quei libri che te li divori col piacere di leggere. Questo è stato una fatica improba, che non mi meritavo proprio. Besitos a todos. Grazie. 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 Grazie.